Greta Thunberg, direttrice per un giorno di un programma della BBC sul clima mancano, azioni concrete, dice la giovane attivista. Il padre è preoccupato dall'odio contro di lei. Il corrispondente da Londra, Marco Varvello. Adesso almeno i potenti stanno a sentire, ma ancora non ci sono fatti concreti. Greta Thunberg, così alla BBC, direttore per un giorno, ha organizzato diretto lo spazio radiofonico del mattino di BBC Radio 4, tre ore tutte dedicate ai cambiamenti climatici. La giovane attivista ha voluto intervistare David Attenborough, il Piero Angela della BBC. Poi l'ex governatore della Banca d'Inghilterra, Mark Carney, appena nominato inviato speciale delle Nazioni Unite per l'emergenza climatica, ed ancora sul banco degli imputati il capo della Shell, poi le vittime delle inondazioni in paesi in via di sviluppo. Il momento forse più emozionante è stato la testimonianza del padre, Svante Thunberg, che ha ricordato i momenti più bui dell'infanzia della figlia, la sindrome di Asperger, la depressione. Il genitore preoccupato dell'odio scatenato online o da politici come Trump e il brasiliano Bolsonaro contro la figlia. Greta è ora rinata, paladina delle battaglie ambientaliste, ma tornerà presto anche sui banchi di scuola. Scienziate, politiche e sportive, anche in Italia sono le donne le protagoniste.